Cari amici, rieccoci di nuovo insieme per ascoltare insieme in compagnia la parola di Gesù, la parola del Vangelo. Siamo arrivati ormai alla quinta domenica di Pasqua. Sono molti giorni in cui siamo avvolti dalla luce della Ressurrezione. Le nostre domeniche sono in questo mese di maggio davvero bellissime. Questa quinta domenica, se vogliamo trovare una formula sintetica, possiamo dire che è la domenica del comandamento nuovo. Nella mia riflessione vorrei insistere, vorrei capire meglio io e forse farlo capire anche a voi, perché si chiama comandamento nuovo. È il comandamento dell'amore, ma l'amore c'è da sempre, da quando esiste l'uomo, con molte ambiguità, ma l'amore c'è. Il comandamento di Gesù non si chiama, come dicono alcuni troppo in fretta, il comandamento dell'amore, ma Gesù parla di comandamento nuovo dell'amore. Partiamo dalla frase iniziale che ascoltiamo nel Vangelo e che può essere difficile per alcuni di noi. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato. Perché la frase strana? Nel momento in cui Giuda lascia il cenacolo per andare a tradire, a consegnare Gesù, Gesù invece di dire, ma che brutto momento, questo è il baratro del peccato dell'uomo, dice, ora il figlio dell'uomo è stato glorificato e il padre è glorificato in lui. E se il padre è glorificato in lui, anche lui glorificherà il figlio. Non entro nei dettagli di questa frase indubbiamente molto complessa, ma che cos'è questa gloria? Questa gloria è l'amore, coincide con l'amore. Nel momento in cui Giuda va a tradire Gesù, comincerà per Gesù il suo dono di amore. Gesù non verrà ucciso semplicemente perché Giuda l'ha tradito, ma perché Gesù ha deciso di entrare in questo disegno di amore in cui sacrifica la sua vita per i suoi fratelli. Nel momento in cui Giuda esce dal cenacolo, entra nell'ombra del suo grandissimo peccato, del suo grandissimo tradimento, Gesù legge con profondità. Il figlio dell'uomo è stato glorificato in questo momento in cui attraverso questo tradimento entra nella sua capacità di amare gli uomini in totale gratuità. E c'è anche una frase che un po' stupisce, fino a un certo punto stupisce, stupisce nel senso che penso dobbiamo capirne il significato profondo. Dice Gesù figlioli ancora per poco sono con voi. Questa frase contiene l'idea che presto Gesù sarà strappato dalla passione e dalla morte, ma vedete come la frase continua. Non finisce semplicemente figlioli ancora per poco sono con voi, ma dovete continuare a leggere questa frase, ad ascoltarla in un unico fiato. Figlioli ancora per poco sono con voi, ma vi do un comandamento nuovo. Cioè il comandamento nuovo prende il posto di Gesù. Gesù con questo grandissimo atto di amore sta salendo al Padre e in questo senso ci sta lasciando. Ma nel vuoto, per così dire, che Gesù lascia partendo per il cielo, c'è qualcosa che riempie questo vuoto. È il comandamento nuovo. Quello che faceva Gesù quando era in mezzo a noi, adesso lo può fare, se noi lo viviamo, il comandamento nuovo. Il comandamento nuovo rende presente per sempre, in ogni tempo, quello che era donato nella presenza storica di Gesù. Ma quali sono i caratteri di questo comandamento nuovo? Sono tre. Il carattere fondamentale è quello dell'amore, cioè la benevolenza che noi abbiamo verso gli altri, vedere gli altri positivamente. Voi conoscete senz'altro persone malevole, persone maligne, persone pessimiste, sempre di cattivo umore, che qualunque cosa gli altri facciano, loro trovano un motivo per cui quella cosa è brutta, egoistica e contro di me. Bene, l'amore è l'atteggiamento opposto. L'uomo che ama vede l'altro in una luce positiva. Quindi il comandamento nuovo ha un basamento che è semplice per così dire. Amatevi, vivete nell'amore, non vivete nella frustrazione, nell'opposizione agli altri, nel semplicemente essere indignati di quello che fanno gli altri. Vivere nell'amore, guardare la realtà con benevolenza. Ma poi c'è una seconda cosa che è molto importante. Gli uni, gli altri. Questo amore deve essere reciproco. Questa è una cosa molto difficile da dire, sembra di essere esagerati quando lo si dice. Noi, cari amici e cari amiche, non dobbiamo essere preoccupati solo di amare gli altri, ma dobbiamo essere preoccupati che ci sia una circolazione di amore. Quindi dobbiamo essere preoccupati non solo di amare l'altro, ma che l'altro voglia un po' bene anche a noi, che l'altro ci capisca. C'è una frase di San Paolo che io cerco di non dimenticare mai. Dice Paolo ai cristiani di Roma, per quanto sta in voi, siate in pace con tutti. Questa frase significa che dobbiamo impegnarci, per esempio, per essere amabili agli altri. Noi dobbiamo fare delle cose per cui, per esempio, gli altri capiscano che vogliamo loro bene. Non possiamo volere bene agli altri come pare a noi. Se noi vogliamo che gli altri capiscono che li amiamo, dobbiamo comportarci secondo le aspettative che gli altri hanno. Quindi vedete che sono due gradini. Al primo gradino amatevi, al secondo gradino più impegnativo amatevi gli uni gli altri. Ma c'è un terzo gradino, un gradino duro. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Non è semplicemente una frase di bellezza quest'ultima, è decisiva. Come ci ha amato Gesù? Dando la vita per noi, non rinfacciando a Pietro che lo ha rinnegato. Quindi se noi vogliamo capire cos'è il comandamento nuovo, adesso l'abbiamo capito. L'amore è una cosa di cui molti, tutti, starei per dire, parlano e ciascuno dà le sue declinazioni. Le declinazioni di Gesù sono queste. Amare, non detestare, non odiare, non essere indifferenti. Amare. Poi c'è la reciprocità. Preoccuparci degli altri, ma preoccuparci anche del rapporto che gli altri hanno verso noi stessi. E quindi fare in modo noi di essere amabili. È inutile che uno ami e poi si fa detestare. Il procedimento della circolazione dell'amore resta interrotta. Lui non può dire, ah ma io amo. Sì, tu ami, ma ti comporti così da sciocco, gli altri non capiscono niente e pensano che tu sia un poco di buono, ti trascurano, non riesci a finire il cerchio. Non fai l'odigiotto, fai sì e no un segmento di cerchio. E l'altra cosa, amarci come ci ha amato Gesù. Ma nel Vangelo di oggi c'è qualcosa che per noi cristiani, per quelli di voi che siete, sono cristiani per me che sono un presbitero della Chiesa Cattolica, è una frase che non può non piantarsi nel cuore. Dice Gesù, da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Cari amici, come siamo messi oggi? Oggi sembra che ci sia una certa crisi. C'è una certa crisi di credibilità del cristianesimo. E questa mancanza di credibilità viene proprio dal fatto che non c'è questo, non è molto diffuso questo comandamento nuovo. Quindi qui abbiamo proprio una questione sulla quale vale la pena di interessarsi. Ma questa mancanza di amore, di comandamento nuovo vissuto, che porta a una certa incredulità, o perlomeno che non è propaganda la fede, di chi è? Chi è che porta alla responsabilità di questa situazione? Si possono dare varie risposte. Molti dicono, ah la Chiesa, la Chiesa soprattutto i preti, la gerarchia, e vengono trovati difetti, abusi, nel denaro, nel potere, talvolta anche nell'affettività. È tutto qui il problema? Oppure il problema è che sono le parrocchie. Nelle parrocchie non ci siamo gli uni e gli altri. Nelle parrocchie c'è tanto di quel chiacchiericcio di cui parla così malvolentieri Papa Francesco. O il punto debole qual è? Cos'è che non è credibile? La Chiesa, la gerarchia, le parrocchie? O è il Vangelo che è poco credibile perché pochi lo vivono? La secolarizzazione ha desertificato il campo in cui viene seminato da pochissimi il Vangelo, per cui la situazione è diventata dura. Viene seminato il Vangelo ma la mente di molti è assolutamente secolarizzata, vede le cose terrene e non vede nessuno sbocco ulteriore. Sapete qual è un segnale importante, evidente di questa desertificazione? È lo scarsissimo numero di sacerdoti, di religiosi, di diaconi, di gente che si impegni per la Chiesa. Il mondo è troppo chiuso in sé stesso, non si vede il cielo, quindi non c'è nessuno che si impegni per raggiungere i beni che sono del cielo. La settimana scorsa abbiamo parlato a lungo del pastore risorto che guida il greggio verso il cielo. Ora molti non vedono proprio questo cielo, quindi certamente non si impegneranno. Secondo voi un ragazzo, un giovanotto che non vede il cielo, vede solo la terra, può forse fare il prete, può forse fare il diacono? Guardate che la risposta è no. E questo riguarda anche molti credenti che sono all'acqua di rose perché il Vangelo non può essere dichiarato in tutta la sua bellezza se noi guardiamo solo la terra. Mi permetto allora di darvi un compito per questa settimana, se lo volete accettare. Tu cosa pensi di quello che ho detto adesso, di questa desertificazione che blocca il Vangelo? Potresti tentare di parlarne con qualcuno, di discutere, di capire. La risposta di quello che troverai non lo so, ma sarebbe molto interessante che tu fossi capace di parlare con te stesso e con gli altri di questo che in realtà è uno dei più grandi problemi. Non è un problema di cronaca, non fa effetti giornalistici, ma è una cosa di cui potresti interessarti. Chiudendo vorrei accennare molto rapidamente a una cosa. Voi avete sentito, sentiremo, nella prima lettura, nel racconto degli Atti degli Apostoli, il racconto che gli Apostoli designarono per loro in ogni chiesa alcuni anziani e dopo avere pregato e digiunato li affidarono al Signore nel quale avevano creduto. È la fine di un grande viaggio missionario di Saulo e Barnaba. Hanno fondato in quella che allora si chiamava l'Asia minore, che oggi sarebbe la Turchia, diverse comunità. Adesso devono tornare ad Antiochia, devono passare per Gerusalemme. Che cosa fanno? Costituiscono dei presbiteri. Mentre vanno via scelgono nelle comunità che hanno fondato alcuni uomini che prendono la responsabilità stabile di seguire questa comunità, di aiutarla. E allora vorrei ricordare a me e a voi, cari amici, che l'amore, il comandamento nuovo dell'amore, deve tradursi anche nelle strutture che sono indispensabili alle persone. Può essere antipatico. Ma proviamo a pensare una domanda molto concreta. È necessario che l'amore diventi strutture concrete? Guardate che la risposta è certamente sì. Vi faccio un esempio. Prendete la catechesi dei nostri bambini. Si potrebbe fare catechesi dei bambini se non ci fossero le parrocchie? L'amore generico per i bambini produrrebbe la catechesi? No, occorre che ci siano anche strutture nelle quali la gente può vivere. Quindi se volete che vi suggerisca una domanda per un esame personale, individuale per un discernimento, sarebbe questo. Chiediti se sei sufficientemente sociale, cioè se cerchi di essere buono te per te o se ti preoccupi anche che ci siano delle strutture che aiutino te e gli altri a sostenersi. Grazie del paziente ascolto e arrivederci. Grazie a tutti.